Tutto pronto all'Aquila per la Woodstock del jazz, alberghi da tutte saurite ed una task force per gestire la maratona di domani che contempla l'esibizione di oltre 600 artisti e il gran finale in Piazza Duomo con il concerto di Gino Paoli insieme ai guru dell'affascinante genere musicale. Da Paolo Fresu a Danilo Rea e Rita Marco Tulli, grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale, si danno appuntamento all'Aquila per riportare i rettori sulla città ferita a sei anni dal sisma. Note e intriganti risuoneranno nel silenzio dei palazzi ancora puntellati e daranno il benvenuto alla vita agli antichi stabili restaurati. Per domani sono attese oltre 30.000 persone nel centro storico, in cartellone oltre 100 concerti a partire da mezzogiorno fino a mezzanotte. Si tratta di una manifestazione offerta dal Ministero della Cultura e voluta dal Ministro Dario Franceschini. Il centro storico sarà ovviamente blindato con uomini dei vigili urbani impegnati a presidiare i varchi del cuore cittadino chiuso dalle 10 del mattino. Resterà accessibile alle auto solo l'anello che comprende via Strinella, viale di Collemaggio, via 20 Settembre e viale della Croce Rossa. A disposizione dei cittadini ci saranno bus navetta confermate in Piazza Italia, viale Collemaggio e stazione. Grazie per Adrià!